ciao ragazzi bentornati al mio canale vi ricordo se non avete fatto ancora di iscrivervi attivare la campanellina commentare siete sempre tantissimi e ancora auguri di buon anno in questo video vi parlo di proteine legate comunque alla pelle questa volta ho già fatto un video in passato sulle proteine ma poi vi spiegherò perché proteine e pelle quindi faccio un piccolo preambolo sulle sulle proteine legate alla pelle quindi anche quando si parla di proteine solitamente la gente lega al fatto proteine uguale muscolo si è vero chiaramente vanno a costituire i nostri muscoli anche la pelle contiene muscoli è comunque un muscolo e quindi le proteine sono legate anche tantissimo alla pelle alcuni dati pensate che la pelle è comunque l'organo più grande del nostro corpo rappresenta pensate circa il 15 per cento il nostro peso corporeo quindi comunque non è pochissimo aiuta a regolare anche la temperatura corporea e ci protegge dagli agenti esterni quali sono i fondamentali per una cura per una cura della pelle beh la pelle è un organo vivente come tutti noi sappiamo bisogna prendersene cura e per mantenerla comunque sana e viva va tenuta flessibile e idratata una pelle sana inizia comunque da dentro il nostro corpo ok e quindi inizia dall'interno ma una buona una buona comunque routine di skin care quotidiana può aiutare a migliorare comunque il nostro aspetto della pelle sicuramente e può incidere tantissimo ora andiamo a a vedere come invecchia la nostra pelle ok beh chiaramente come come tutto il nostro corpo quindi ossi muscoli e quant'altro anche la pelle invecchia anzi si vede di più quando invecchia la pelle quindi nel tempo la pelle diventa più più sottile più secca meno elastica sicuramente e meno in grado quindi di proteggersi dai danni diventa più fragile più soggetta comunque a lividi poiché l'epidermide e le pareti comunque dei vasi sanguini si assottigliano quali sono i fattori due sono i fattori che incidono comunque per l'invecchiamento della pelle quindi fattori interni e fattori esterni fattori interni sono la genetica 1 gli ormoni 2 e 3 sono le condizioni comunque anche di salute quindi quando si ha comunque delle malattie dando la pelle rispecchia tutto quello che noi facciamo quindi se il corpo sta bene la pelle sta bene ok e quindi fattori interni e fattori esterni i fattori esterni sono la nutrizione quindi tutto ciò che mangiamo e beviamo lo stress anche lo stress tantissimo l'ambiente inquinamento il posto in cui viviamo e anche l'esposizione al sole e alla luce quindi i famosi uv4 perché vi ho parlato di proteine legate alla pelle come vi ho detto anche la pelle contiene molte molte proteine quindi è fondamentale partire appena in sicura la nostra pelle da dentro ora non ho il prodotto sotto mano perché appunto l'ho finito che l'utilizzo tutti i giorni mi deve arrivare e si vede io utilizzo il collagene skin dell'azienda Herbalife Nutrition ci sono molti tipi di collagene di collagene comunque in commercio alcuni in forma da applicare solo in forma esteriore quindi in crema e altri comunque anche da bere di cui purtroppo non sto a chiacchettivare le altre aziende ma non ha un buon sapore collagene così da bere quello Herbalife è buono è gusto fragole limone quindi è buonissimo e qui adesso vi spiego un po' di alcune caratteristiche del che funziona molte riviste ne stanno parlando sta su tutte le riviste ho messo anche altri video sul mio canale youtube che appunto ci mostro il nostro collagene sui vari i vari quotidiani di benessere collagene skin Herbalife contiene Verisolpil Verisolpil che cos'è? è un peptide collagene maggiormente supportato dalla scienza quindi è scientificamente provato e tra quelli presenti sul mercato è costituito da peptidi appunto di collagene puro ok ecco perché funziona è di origine naturale di tipo 1 e contiene il collagene tipo 1 e 3 che sono quelli che funzionano meglio la cui capacità di ridurre le rughe degli occhi migliorare comunque anche l'elasticità della pelle è scientificamente provata anche in solo dopo quattro settimane di uso figuriamoci se si usa per tre mesi di fila che avviene comunque il riciclo cellulare della nostra del nostro corpo che risultati da potrei mostrarvi una marea di anche di miei clienti ma anche di colleghi e clienti dei miei colleghi che hanno avuto dei risultati eccezionali tra l'altro contiene non è solo collagene questo contiene anche comunque vitamine e stai minerali quindi anche per voi donne e ridurrà aiuta anche a ridurre comunque la cellulite se questo può può interessarvi ecco inoltre il base soul pill influenza comunque anche il metabolismo della pelle dall'interno come vi dicevo prima quindi una pelle migliore ragazzi vado qua a concludere il video parte dall'interno poi se ci mettiamo anche altri ottimi prodotti Herbalife fa anche prodotti da applicare dall'esterno quindi tutto parte dall'interno ci applichiamo anche una crema naturale dall'esterno e abbiamo fatto bingo come si dice no ricordatevi comunque il riassunto è prendetevi cura della vostra pelle perché è l'organo che va a ricoprire tutto quello che abbiamo quindi ossi muscoli di tutto ok ed è quello più soggetto a rovinarsi perché perché sta appunto all'esterno e metterò comunque il link in descrizione sia sui miei commenti che sul che sulla descrizione appunto del video metterò il link dal mio sito personale ufficiale quindi anche cliccando lì potete tranquillamente acquistare o comunque andare se non volete acquistarlo non c'è nessun problema andare a visitare tutte le informazioni che vi ho detto io su questo prodotto io vi consiglio di acquistarlo perché la qualità la qualità si paga in questo caso è l'unico collage in circolazione che contiene veri solpi ok è stato un piacere ragazzi ancora ancora buon anno e arrivederci al prossimo video ciao ciao